vive dall'altra parte della città ah, ciao Kiss, grazie per avermi prestato adesso tocca a me, darti un bel libro da legge il tuo amico art sei pronti per l'ultima battaglia del buono contro l'errore armi? il capitano spirit non ha bisogno ma, solo in caso ma andiamo giù la squadra moglie qui viene il shark stinger ah, canina eh, la madonna così come ce l'abbia eh, va bene andiamo voglio esculare la città eh, va bene andiamo la città, vabbè la casa la camera lì ehi, Chris, meglio venire al breakfast quando ho chiesto a te o altrimenti abbiamo un problema non questo non è un hotel, amico ho cose da fare ah, buona scena cos' 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 città What'd you expect, a waffle? I just like sunny side up. Ah, so well. Like mom used to make. Mommy peak. Yeah. Me too. All right. That's not gonna happen. I know. You can't keep saying mom used to do this or that. But I know more than anybody, Chris. I know. Okay? Yeah. Okay. Well, there's something that doesn't go to the event. What do we do today? What do we do today? So dad, what's the big plan for today? Uh, big game plan. Even though we'll probably lose again. Gotta get rid of that coach. Today I bet we win. Now that's the fucking spirit. Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Hey, it's your, uh, arm. Okay. Looks better. Anybody, uh, ask you about it or, uh, say anything at all? No, it's fine. I worked it out. I, I just want to make sure you're okay, buddy. I'll be here. So, so you must be excited for Christmas. See? Oh, yeah. Are you excited, too? I don't know. Santa probably put me on his naughty list this year. Huh? Nah. Santa says you still get a present. What do you want? Whatever makes you happy, Chris. That's the best gift ever. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did. And yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Hmm. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Watch. Alla prossima Ok, che farebbe il capitano Spirito? No C'è solo il capitano Spirito e si è fatto qui intorno, lo metto insieme alle parti della mappa per scoprire il cammino. Ho sentito che le manti vuol distruggere la nostra città, solo io posso fare la mano. Questa volta la scala è la scala da bagno. Potrei giocare a mostro al partito, ho appena sopra il telefono con il papà. Ah! La mia squadra è superiore forte, vedo ne che i manti sono cattivi. Vedo che i manti tra quella scena è superiore. Facciamo il costume. Per camminare così non è meglio... Guarda, lava! Guarda, lava! Guarda! Guarda! Dov'è? E lo do il metterello? La scala magno? No scala magno, la scala magno! scaldamagno cossi latini e villa eww sticky beer cans buttami ok dopo polizia io drink up cossi guardami cold mhm maybe i could cook something for dad ma cartolina guarda andiamo la cartolina i've never seen a beaver around here hai visto un castolo qui in giro i've never seen a beaver È veloce, ma posso fargliere il papà di macchina? E' troppo freddo e non si mangia niente. Oh, freddo! A buttarmi. Buttiamo via. Scuola! C'è un po' di superlaunche. C'è un po' di superlaunche. C'è un po' di superlaunche. Questo è il giornale? Vediamo il giornale. Boring. Innoia. Leggi. Get not waste. Spalatoia, nuove proteste contro la polizia locale. Sì, continua ancora le proteste di volte un mese. Dopo gli inspiegabili morti uomo al posto di un polizotto. Polizia ancora rilasciata e comunicata. Alcuni fonti intengono che sia stato ucciso da un polizotto. Mentre il caso e la morte, questi tutti sono ancora ignotti. Di gruppi difesa e diritti civili hanno accusato le partimenti poliziali sette dopo aver condotto le indagini indagatamente, portanto a proteste rivolti da parte dei cittadini. Nel momento. Non abbiamo mai usato questo in l'antenne, perché del sole. Ah. Cosa? Ah, la lavatrice. Eww, i miei vestimenti non mi sembrava. Ora ti apprendi la vostra lezione e rimane. Oh sì, questo è come domini. Posso aiutare il padre a fare l'impianto usando la mia mente. Magica. E questo è come fai la balla. non ha fatto giusto spero che ho detto bene si, non ha fatto giusto non ha fatto giusto fa cose che succederà va portaboli vabbè, non ti preoccupi vai in là e prendere la città Ma prima, metto il tuo cibo magico. Ah, è buono, Chris. Sei meglio che un giocatore. Non chiedi per una riuscita. Fini. Snack time! Adesso tu lo mi ha fatto? Poi non sono comunque al giorno, e così ho pensato che potrzy vedere. Mi può fare questa mac e cheese in no tempo. Per bene, non proprio bene. Tu vrei fare la della mia cucina di noi, c'è un gioco. Ma made la migliore mac and cheese. Non solo. Ma ti è rendito la migliore mac and cheese. ma questo è il perfetto comfort food per un giorno di giovedì grazie beh, provo provo prima best mac and cheese ever isa no no come si è un pollo che mi piace è un pollo che mi piace è un pollo che mi piace un pollo un pollo chris, rispondi il telefono preso è solo da phone è un attimo con intu molto tempo io doni e the phone ringing off the hook Niente! Non è! No! Ne ho scelgo un po' da quella peggia! Tu dimenticarti! Che? 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 un po' di vero I've never seen dad get that map it really scares me oh yeah yeah look at the scoreboard motherfuckers all right grandma and grandpa are so cool but no way I'm ever leaving dad I'm just too busy to care if I go online Chris these are the most important numbers for you on this list oh yeah cool story dad jeez that is packed I better take it out ugh I hate that beer can smell help I wonder when I can start to shave. Superheroes shave? Welcome to W-H-E-R-O. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? My message is that Mantroid will never win, and I will find you, and I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice, and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News! I feel naked without my costume. I feel like you could clean the mirror. Oh no, I hate going to the Water Eater's Lair. Oh no, I hate going to the Water Eater's Lair. Oh no, I don't want to clean the mirror. Oh no, I don't want to clean the mirror. I'd like some too. Ah, fumetto. I never get tired of hot dog, man. Never. Man. I love this issue. Spurzzi l'acqua. Wish I could draw like this. Erco Baleno. Ok, so做. Ah ah, ah ah! Mi stereotype come nelle nocce. Finito un momento. Quindi questo ruoterò fina ultima goccia, Cos! Five Meat! Dinosaurland is open for business. Eat everybody I am Marty Rex and you are my lunch it looks like Marty Rex is getting hungry I don't think dad reads these I think he just takes them from work Why does he drink that if it just makes him mad? Why does he drink that if it just makes him mad? I could sit on the couch and watch the game with dad if he sees me I'm frozen I must build a fire Goodbye log Stop What if I had real superpowers? I could protect the whole town We never used this door in winter because of the snow We never used this door in winter because of the snow Let's check this out Let's check this out Oh that looks scary I should read that Sorry pup it's war Hang on how much he got since he's gone Headshot! Ow! Cheap shot! I'm going down! You can't kill the zombie jock! No way! That was a headshot! I am a super zombie! Well I'm a superhero! Can't argue with that! Zombie down! Captain spirit strikes back Captain spirit strikes back Captain spirit strikes back Sorry pup it's war Oh my poor I wonder why dad never hangs out with Nick anymore I wish I could have gone on a hike with mom This has to be mom's She like dark She like dark I don't get to get it down It seems pretty Thank you She just turned around I don't know I like to show people Oh You are kidding me ref? Here's my hot dog man I can't see dad selling homes Whoa Oh, is he getting us tickets again? Best dad ever. That would be a blast being a freight hopper. Choo choo. Ah beh. Oh, those are dad's pages. Yes. Ah, the world of statistics. Okay. Attention in everything. The official of BibleKick has not been exposed to the quality of the patients in the chest. The various diseases caused by all of the rest, so if you are not responding to mental health, it could result in a breach. Si dovrebbe riscontrare i problemi di trovata in situazioni spiacevoli con gli effetti per il supervisore. Per consigliere si dovrebbe ricordare il contatto di livello e venite a parlare durante il lavoro. Grazie. Mixtape, supervisore e rispettazione per la mila di loro. Fare errone a Aerocon dove riesci. Fare errone a Aerocon di Porta. Quindi sono i seti di aeroporto. Fidemente istante. Quali è il loro scritto? Penso al tuo fortuna. Leventa l'agente mobile. Il nostro corso chiesto di mani si siano attraverso per iniziare a vendere case del risultato di soldi. Si sa bene il miglior agente miglior del resto. Tutti quanti paramilari è stata portata con la miglior agente per rendere i 15. Che quei per gli istanti di un riscontro del 10%. Uff. Leventa le punizioni per tutti i cammini non lui. Scatola, portata e confiore piccoli insieme per il quale viaggia. Un sacco di giochi esclusivi. Le avvertite un paio dal mese. Cosa puoi vincere? Quello checinì lo scappa! Si muissero questo ragazzo e non io Giuseppe, puoi abbracciare i circondi del ragazzo. E' una manca qua, una bandone. Ah. Sono troppo vecchio per essere mesurato. Certo? Certo. È l'unico. C'è un altro. È l'unico. È l'unico. È l'unico. È l'unico. Non, 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 non! and you don't lay with me I love listening to mom's old records Mom and dad would always let me sleep with them whenever I got scared Oh, right That does not look good I just don't I know this drawing sucks, but it's cool that they had put it here Oh, the mystery of the secret key is solved Yes! Where's my bed to leave me clean? Feed my soul now Look, I'm falling I can't explain how much I can call you Careful of booby traps Let's 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 Mmm Dad never told me he had a new friend Ciao scusa per quello che ti ho detto l'altra sera Incazzata perché sempre che non mi ascolti quanto mi so Il mio lavoro da volte è molto interessante so come stessa anche te So che voglio essere più convolta nella tua vita Certo per dirti così triste quanto mi rendi così felice Non vedo l'ora di conoscere il tuo figlio Ma la sensazione di me non ti ha abbiati Spero di sbagliarmi Non ti dice le cose che mi felisco Ci tengo tantissimo e a te non volevo solo dirlo Per farti capire Vedo un futuro insieme a te Quindi spero che tu sappia che questo messaggio viene altrimenti dal mio cuore Nella tua piccola ballerina Wow Dad advanced when he was playing in high school Sono superiori That's scary So we move because dad can pay for the house? That sucks So we move because dad can pay for the house? That sucks Dad got fired? That's when he started working for the railroad Dieter Zorastra 소년 Супrano An Attone Alex Nonostante la vostra facultad Rispetto al suo rapporto Su impegno continuo Controciamo che è stato ripreso più volte sul compattimento che si Ve imporiamo che a seguito il silenzio Al tira di vino trovato in piscina Dopo la cresura Decide di stiminare il suo ricontato Il rispetto immediato So Siamo utilizzati a metropolitani Accordiamo sempre di interesse e sicurezza ai nostri studenti chiamo inoltre la scuola sportiva con il numero di contattati al problema così ma è una cosa che possa aiutare per il futuro saluti sono gente oh che pezzato palla la mano padre sempre parlava di questo basket oh oh my god dad actually got me the new play box no way wow dad had fans when he was playing in high school dad never told me he had a new friend thank you don't come on my TV is close I'm glad dad kept mom's perfume smells just like her guarda I hope I can go practice with dad again this summer light on oh that's better si ma la chiama non la metta a posto va andava di soli un misterio del pin oh man oh man she loved this song I haven't listened to it since for a long time long time I could take over the town with this army in the world gotta have a super cape only captain spirit can wear it to be it to be it Mmm chocolate! Grazie Claire! spero che potrei scrivere così bene come la mamma un giorno questo è un buon libro iniziale, puoi fare tutto quello che sono mai riuscito a fare non vedo l'ora di passare il resto della mia vita e guardate mentre sanno il mondo ti voglio bene, super mamma the secret treasure is buried out there in the wild now I have to locate the second part of the map sorry, you're too cute to fight evil you're too cute to see cosa come si fa a uscire alla casa? guarda il dolce da neve alto ah no no ah si si può uscire qua quella giusta ah no no che Sì, 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 sì. Noi can't escape the deadly aim of the beer hunter I'm so sorry Yes! un gioco sai cos'è Ah, qua. Colpito capita spirito e non ancora una volta immaginare la cina di bello. Guarda. Hmm, quella neve sembra super slippera. Posso spaventarlo. Spaventarlo. Extra bonus points unlocked. Perfecto. Vediamo se rimangono lì un punto. Ah, sì. Per sempre. Vediamo. 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 Vediamo molto. Vediamo. chiuso non si, non si può correre, no, potremmo essere a corsa non si, non si, non si è vero Il Maze di Dume. Il Capitano Spirito ha ascoltato il segretario dentro. Questa è la mia. Questa, destra Posso? Vado sempre a destra Non mi perdono Ah, devo girare Facciamo destra a sinistra Un'amortalixta Un'amortalixta Ora Questa Non faccio vedere la mappa Ma qui è tutto a sinistra Lindo Non lo so Sì, non è vero. Noi, noi, noi. I miss mom's smile What happened? Ok Ahah Ahah Jerks Like people don't drink in bars around here Oh 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 Hmm Looks like we had a visitor It sucks We don't use this landing very much Of course So cool Of course I told you that Oh I could use this to make some cool armor Oh I know We can't go anywhere without the keys non è sicuro non è sicuro no way non ci vedo divertimento con la famiglia porta attualmente gioca con noi non c'è nulla cosa può fare qua non è tornato in casa i hate seeing him like this dad you sleeping hey wake up dad come on huh what who's there who's that dad it's just me chris whoa whoa hold on buddy okay jesus ah oh dad ah ah fuck dad are you okay do i look okay no no i tripped can't even watch one goddamn game fuck that's just great i think i sprained my foot shit chris chris why did you wake me up you you told me to wake you up i thought i thought you said the pine tree pine tree i can't even walk in my own house man you should be careful when you're you know when you wake up don't be a smart ass chris i'm not in the mood right now yeah dad okay hmm jesus christ who is that go answer if it's some salesperson or some church group you just close the door on them it's nobody's business this is our castle and it's our family right right gee that's a lot of beer uh no yeah dad had a party for the game really i didn't see any cars in the driveway or people must have been a good game anyway how are you chris good mrs reynolds just 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 doing homework on a saturday i didn't know you were such a good student teachers must love you i even saw you clearing the snow out of the front porch so i hope you don't work all day actually i was going for a nice walk and i thought i heard a loud noise over here is everything okay ah oh yeah dad just tripped and fell but he's okay that sounded like some fall you sure he's okay uh-huh he got all excited about the game and he tripped over the table i swear well don't swear for your dad honey leave that to him must be some game whoa those look like nasty bruises what happened what happened oh just goofing around with some friends oh oh some kids at school well be careful and if anybody bullies you you can always tell me you understand um okay thanks i do have to go all right honey i'll check back with you later okay um no me and dad are going shopping okay chris i think i've heard enough i'm going to talk to steven about this and we'll be back to chat with your father wait you don't please listen i'm not trying to hurt you okay we want to help you're not in trouble you haven't done anything just stay put and we'll come by in a little bit ah the bitch is in a bitch so what did that nosy bitch want nothing oh nothing huh i was listening i heard it all you could have gotten rid of her i tried oh you wanted to tell her that i gave you little bruises huh no i didn't say anything i swear now you want to blame me for everything is that what you want huh dad please believe me jesus stop that whining you're not a baby anymore oh boo hoo daddy believe me grow up stop but i just just like your mom every time i look at you i tell me you talk stop it just i see her face what why and if it wasn't for you she would have never taken the car that day never oh hey chris look i didn't mean that buddy yes 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 you did no listen chris yes 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 Cosa? 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 Grazie a tutti. Fini. E' vero, bastò che telefonavo. No? Giusto. Il telefono di casa al cellulare si sboccava. No. 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 Viper el medio para tirar de la� ventana. Va a calendar. Qua laerta. No. No. Descarga. E' ok Ok, ci pioniamoci, ma questo... Ah, questo è un altro fatto. Posso fare così, non ho detto, non c'è. Compagnolo, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. il telefono buono continuo ah da qua mi fa continuare benissimo adesso il telefono ecco la cosa del telefono chiama papà eee 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 Ah, ho bisogno di un codice di PIN, cosa è? No, c'è una pizzeria. C'è una pizzeria. Oh, pizza. Buongiorno. Pizzaria è iniziata, ma se potete aspettare, la nostra giornata è tuesdays a tuesdays a tuesdays a 11 a.m. a 10 p.m. Pizzaria? Ciao. Come on. Hello? Mrs. Reynolds? Hello? Ok? Sta dormendo. That was weird. Hmm, trovo là il PIN di quella cosa. Forse è il portabile, trovo qualcosa. There's my... I can't see dad selling up. Wow, is he getting us tickets again? Best dad ever. 15 a 7, 2017. 15... That would be a blast being a freight hopper. Choo-choo. Oh, those are dad's pages. Ma... Fin 17? In 2017, vogliamo. Fin 17? No... 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 Let me show up. No... Can I show up? No... no no e come cavolo faccio sapere il pin non vuole dare mangiare la fotografia I wonder why dad never hangs out with Nick anymore e poi non ho fatto il miscelo della camera qua come on don't be afraid go in there and turn on the heat but first put on your magic cape non la prende il mantello magico adesso che dorme posso guardare qua no 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 I remember daddy yelling on the phone a lot I wrote a lot of letters chris a piedi 10 a piedi Indizio per il telefono Che non riesco a capire I think the Flying Fortress is secure For now Man, I wanted to go to that But dad, it is time for my secret tattoo Only my team will know what it means E come si fa a fare Ah Ah, posso fare tutto Pantofone No superheros should wear those But they're so comfy I don't know how to do this Oh Bin Ah That was a fun birthday party at Pizza Arcade I hope that it will be cool next year Non c'è la data Ah Stein Guy Se c'è la data Non c'è Non c'è la data Lo siamana Non c'è la data No c'è? Non c'è la data Che sais? oh oh now i can use that makeup from halloween no diving today nemo oh please where is this i bet the water you are sleeping again ping ping ah questo non ho visto non si può interagire con quella anche qua ho guardato non 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 non